Come consuetudine anche quest'anno ad Agropoli si è tenuta la tradizionale processione per terra e per mare in onore della Madonna di Costantinopoli, una tradizione che quest'anno compie 50 anni di storia. La statua della Madonna di Costantinopoli, dopo aver percorso le strade del centro storico, è giunta fino al molo, dove è stata imbarcata su un peschereccio messo a disposizione dai pescatori del posto. Seguita in acqua dalle imbarcazioni dei fedeli, è stata portata in processione lungo tutto il litorale agropolese per benedire e custodire non solo i pescatori, per i quali il mare è fonte di sussistenza quotidiana, ma anche tutti coloro che del mare ne fanno fonte di lavoro, come per i lidi, o luogo di riposo e di vacanza.